eccoci qua allora nostro ufficio tutto pulito abbiamo fatto un bel restyling pannelli non già stai che anche a me nel calcio logicamente l'ufficio è diviso con la cantera massese però guardate che spettacolo che bello gabrie cosa ne pensi bellissimo soddisfattissimo finestra te lori piace tutto bellissimo guardate la cosa bella al di là del nostro ambiente che è meraviglioso ragazzi perché qui alle colline massese veramente meraviglioso guardate la bacheca cos'è diventata uno spettacolo guardate accademia del calcio guardate la vela andate che spettacolo guardate che spettacolo la mettiamo lo stesso non ci interessa comunque questo è quello che noi facciamo per tutti quelli che vengono in accademia perché noi vogliamo migliorare vogliamo migliorarci vogliamo migliorare l'ambiente vogliamo migliorare tutte le nostre strutture e cerchiamo che migliori il nostro campo adesso venite con me venite con me li accompagniamo al nostro campo venite facciamo un percorso lori vieni con noi andiamo andiamo a fare percorso allora guardate la meraviglia del nostro ambiente al di là che ci siamo sul mare quindi sole mare eccoci qua aspettate un attimo facciamo un saluto a giampaolo che sta lavorando facciamo un salutino a giampaolo sta lavorando stiamo facendo il percorso stiamo facendo fare un giro ai nostri amici di youtube a vedere lavorare in accademia guardatelo guardate giampa tommy pasquini continuiamo andiamo in alla scoperta nel nostro campo signori youtube vi presento il babbo di tommy allora guardate qua lo studio allora qui adesso ci sarà il dibattito poi in futuro per il nome abbiamo bisogno di uno di di voi per trovare il nome dell'accademia perché questo campo qua glielo darete voi il nome non noi quindi poi faremo dei sondaggi quindi sarete voi ripeto a dare il nome al nostro campo sole allora intanto i camp estivi soprattutto queste stade nel camp estivo ci sarà le novità proprio del campo in erba quindi quello che avevo detto tempo fa sui camp estivi questa è una novità principale che abbiamo fatto quest'anno quindi questo campo qua nel camp estivo sarà bello diciamo all'inglese dai campino quindi dedicato tutto alla tecnica individuale con novità anche dentro il campo con attrezzi specifici per la tecnica e poi la scuola usufruirà del campo in erba perché noi siamo del parere che ci vogliono i sintetici ma bisogna tornare un pochettino anche all'erba e sporcarsi esatto i ragazzi devono bagnarsi sporcarsi e lavorare con passione perché da noi lavorano con passione quindi come ripetiamo ormai da tempo un no just the game accademia del calcio a presto sui canali youtube accademia del calcio youtube accademia del calcio facebook accademia del calcio instagram accademia del calcio twitter accademia del calcio insomma ragazzi siamo ovunque e vi aspettiamo qua da noi in tanti e numerosi a breve ancora continueremo con le novità sui camp estivi